Siamo finiti di nuovo in un mondo maledetto, ma questa volta abbiamo chiamato anche Mark, giusto per farlo soffrire assieme a noi, perché abbiamo bisogno di una mano, nel senso, la scorsa volta noi eravamo in un mondo maledetto, dove sì è tutto strano, sì è tutto un po' invertito, eccetera eccetera, ma alcune cose sono normali, in questo mondo nulla è normale, questa è la terra. Niente, esatto. La so che lo volevi, vero? Tieni, te lo regalo. Cosa te ne fai? L'alambicco d'altronde è un oggetto che mi serviva proprio all'inizio. Lo so, beh, è la prima cosa che vuoi nel mondo. Stef, mi hai visto, l'ho rotto e è sparito. Guarda, aspetta, abbiamo un modo molto semplice di risolvere. Ne hai quante ne vuoi in questo mondo? Devi dropparmelo, guarda, perché sennò se lo metti per terra, lo rompi, non succede, guarda, niente, via, addio. Sparito per sempre. Allora, per fortuna abbiamo una cesta iniziale che ci darà un minimo una mano perché sopravvivere in questo mondo è veramente una tragedia. Allora, io mi prendo un po' di legna, un po' di cibo e temo che sarà l'unico cibo che vedrò in questo mondo. Speriamo per il meglio. Perché noi diciamo andiamo a uccidere quelle pecorelle, ma so già che non ci daranno il cibo. Però voglio andare a provarlo, scusate, devo togliermi il dubbio e rivedere che cosa ci danno. Beh, dobbiamo anche scoprire che cosa ci danno. C'è anche un pollo prima, io vado prima di tutto sul pollo. Vai sul pollo. Una sella. Una sella? Oh, almeno è utile. Il pollo è fantastico. Fosse così anche su Minecraft normale saremo felici. Dopodiché, pecorella, vediamo un po'. Allora, se non sbaglio, ogni colore di pecora dà un oggetto diverso. Davvero? Addirittura. Per esempio, questa qua era grigia, prova con quella bianca. Secondo me potrebbe darti un banner di colore diverso. Ok, vediamo. Sarebbe fantastica. Oh, guarda. Direttamente del legno. Oh, legno? Non è male. Era quella bianca? Sì, era quella bianca. Ok, allora abbiamo del legno. Facciamo una farm di pecore bianche. Vi va? Perfetto, sì, sono d'accordo. Mi sembra una buona idea in questo momento. Almeno abbiamo un po' di legno. Perfetto. A questo punto io vorrei sapere tutti i colori, però non ce ne sono. Andiamo a vedere anche le mucche che le abbiamo qui vicine. Ok, andiamo. Vediamo un pochettino. Sarebbe meglio che qualcuno ci riesce del cibo, però ci accontentiamo. Eh, vabbè. Tanto un po' ne abbiamo, quindi va bene. Mucca, vai qui. Cosa mi ha dato? Cosa ti ha dato? Il tappetto verde, mi sembra l'oggetto. Il tappetto, ma... Sì, sì, ma... I famosissimi tappeti verdi. Tecnicamente, se piazzi il tappeto verde, dovrebbe darti qualcos'altro. Cioè, tu puoi creare delle catene immense, secondo me, vedi? Sì, mi ha dato questo, guarda, Steph. Va bene. Vabbè, ma che è sta roba? Ragazzi, sta succedendo di tutto. Non ha senso, non ha senso nulla. Al dead fire coral block. Ok, bene, Steph, bene. Non è andata molto bene. Assolutamente no. Io proverei con questi, però. Allora, vediamo. Vai. Ok. Non è andata molto meglio. No. E invece questo... Poi a mani nude ci mettiamo tantissimo. Un bottone. Non è andata molto meglio. Vediamo invece il planks. Magari questo potrebbe andare bene. Ti aiuto, che se no qua ci mettiamo un sacco di tempo. Stanno andando malissimo. Sì. Questo è il nostro bottino. Dovresti smetterla, Steph. Non va per niente bene. No, no. Secondo me siamo messi un pochino male, ragazzi. Un po' molto male. Se è un mondo maledetto che conosco, potrebbero esserci anche dei mob molto cattivi, sapete? Perfetto. È quello che volevo sentire, lo sai? Quando inizi bene la giornata, la inizi così. Allora, oh mio Dio. Slime. 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 Ok. Cioè l'erbetta ti dà gli slime? Sembra proprio di sì. E i fiori? I fiori danno legno? Ma allora siamo a posto. Beh, è bellissimo però, eh. Allora siamo a posto. Ok. Ma non tutti i tipi di fiori gialli. Cioè i fiori gialli danno quel tipo di legno. Magari gli altri danno qualcosa. Esatto. Cobblestone. Cobblestone. Ah, vabbè, siamo a cavallo. Vai, vai, vai. Prendete la cobblestone il più possibile. Mi sa che li abbiamo già finiti questi fiori. E non sono tanti i fiori. Il problema è quello. Non sono per niente tanti. Allora, però qua ce ne sono altri gialli più bianchi che non sappiamo cosa danno. Ma non ha dato nulla. No, i bianchi non danno niente, ragazzi. I gialli invece continuano a dare la legna. Noi bianchi non danno niente. I bianchi non danno nulla. E però questi altri bianchi, vediamo, questi danno i semini di, di cosa? Cioè posso fare? Barbabietola. Barbabietola, mi veniva. Sì. E invece il rosso, vediamo un po'. Beh, mi sembra giusto. Sì. Non ha minimamente senso. Beh no, a me sembra normalissimo. Non capisco perché siete stupiti. È tutto più che normale. E questo altro legno. I fiori sono veramente ottimi. In questo mondo i fiori sono veramente ottimi. Sì, ricordiamocelo perché ogni volta che ne vediamo ci conviene prenderli, secondo me. Siamo pieni zeppi di legna. Però non abbiamo trovato un modo di far cibo. Eh, quello è un problema. Ringrazia che un po' ne abbiamo perché noi ci saremmo già schiattati. Esatto. Se lo volevo proporre, invece no. Neve. Palle di neve. Però ogni tipo di foglia ci dà qualcosa di diverso. Esatto. Quindi, magari quello della birch. Aspetta, questo cos'è? La legna che cos'è in realtà? Concrete rossa. Vediamo il birch. E vediamo anche la sabbia, dato che qui c'è anche della sabbia. Prima o poi troveremo del cibo. La sabbia è nomeato nulla. Fatemi rivedere. No, niente. Vediamo il birch. Ti prego, ti prego, ti prego. Vediamo le foglie. Ti prego, ti prego. E il blocco di redstone. Ok. E invece le foglie nulla. Nulla. Come le foglie nulla? Le foglie nulla. Davvero? Sì. Questa volta no. Aspetta, che blocchi hai trovato che ti ha dato adesso? La concritte rossa? No, la redstone. E anche questo. Perché io proverei magari a rompere la concritte rossa, no? Possiamo provare. Proviamo. Ci metto un po', eh, a mano nuda, così. Devo darti una mano, che se no qua non la finiamo più. Almeno speriamo che ci sia del cibo, no? Non ci dà niente, si rompe. Si rompe, niente, niente, niente. Perfetto. Bene, bel mondo. Allora, io vi dico una cosa. A questo punto, la nostra speranza è esplorare e trovare un villaggio. Di là, è di là, Steph. Dove? Cioè, appena l'hai detto l'hai visto? No. Giratevi. Vieni qua, Steph. Vieni. Allora, io ti raggiungo. No, io non ho visto nulla. Ma... Steph, di qua. Steph, girati! Eh, ma io sto già guardando verso di voi. No, di là. Da questa parte, adesso di seguirlo. Ah, eccolo. Non l'avevo visto. Eravamo qui da due ore, vabbè. Scusate, un attimo. Questo tipo di fiore? Eh, ok. Steph, è fissato quei fiori oggi. Eh, beh, ho notato che sono utilissimi. Occhio qua che c'è. Guardate. Una voragine. Una scala. Sì, gli scalini. Bellissimi. Volevo vedere anche i pesci. Magari ci danno tipo carne di mucca. Giusto per rimanere fedeli almeno al cibo. Dai, peggio. Non lo so, forse gli squid. L'envil. Un incudine, un incudine gli ha dato. Bellissimo. Ok, abbiamo l'incudine. Ci serviva di sicuro. Io però avevo pensato, andiamo nel villaggio perché così prendiamo le piantagioni. Poi ho realizzato, ah no, sei stupido, Steph. Perché? Le piantagioni non danno niente. Esatto. È vero. Come facciamo ad ottenere del cibo in questo mondo? Oh, magari riusciamo a rubare qualcosa, non lo so. Allora, vediamo. Raga. TNT. Perché? Perché da tipo otto cose diverse? Mi ha dato TNT. Mi ha dato questo. Mi ha dato il bambù. Mi ha dato la gunpowder. Mi ha dato le patate. Quindi abbiamo anche del cibo. Le patate. Mi ha dato una tunica da indossare. Mi ha dato della zucca. Cioè, tutta sta roba. Tutta sta roba. Uno. Provate a romperne uno. Provate. Ok. Con la spada no, assolutamente. Ma davvero? Vedi? Ma sembrano a caso. Non mi ha dato la TNT a me? Ma infatti a me sembrano totalmente oggetti a caso. Tutti diversi. Ok. Ti dà quindi un sacco di oggetti. Allora, tenete? Ho trovato un'armatura in più. Fer, mi sa che tu non ce l'hai. Ho preso un foglio. Ho 22 fogli. 5 zucche, 12 patate, 6 carote. Almeno ti sei fatto un po' di cibo comunque, no? E vi direi, ripiantiamole. E invece no. Eh no. No, ragazzi. Fermi un attimo. Ma quel portale? Uh. Ma perché io oggi non vedo nulla? Perché è così strano? Questo non è per niente normale. Non lo so. Io non ci entro, eh. Perché ovviamente non so che è così. Io non ci entro in quella roba. Guarda che strano che è. Faccio l'effetto sonoro. Oh. È molto terrificante. Stavi facendo la suspense con la campagna. Stavi facendo la suspense. Io lo lascerei qui. Ok. Ok. Facciamo un attimo una cosa. A parte che voglio rompere anche tutta questa piantagione perché potremmo trovare... Ah. Il grano ci dà legno normale. Ok. Ok. Mi sa che sono le carotte quelle che invece danno cose totalmente a caso. Buono a sapersi. Ok. Comunque ho ottenuto anche 30 di grano di fatto, eh. Ok. Vabbè, non è male dai. Non è male. Direi di esplorare un pochino tutto il villaggio per vedere cosa ci sono dentro le ceste e così via. Raga. Ok, certo. Muovetevi a farlo. Perché? Perché ho trovato una spada di diamante. Subito? Diamante. Sì. Allora fammi entrare in questa casa. Una spada di diamante dentro il primo fortione che ho preso. Io però ho trovato della carne marcia. Beh, uguale. Molto fortunata a fare. Ho trovato anche cinque fiori che metterò qua. Eh, raga. Che succede? C'è un problema. Che succede? C'è qualcosa di strano vicino a casa mia. Cioè, sono uscita e mi sono ritrovata a sto robo. Dove sei? Qui giù, a fianco alla piantagione. Stavo facendo la casa mia piccola. Eh, ma un golem è strano, Steph. No, no, ragazzi, no, no, ragazzi, lo conosco questo. Scappa, Fere, scappa. Devo scappare. Questo qua ti sciotta, eh? Totalmente? Totalmente, ragazzi. Un colpo? Sì. Io mi chiudo dentro una casa. Ma è che è caduto di sotto. Steph, è la spada di diamante. Sì, però penso che me la tengo, Fere. Non vorrei schiettare. Ti sta inseguendo. Ce l'ha paresemente con te. Eh, ho notato. Allora, Fere, ci penso io. Lo colpisco e tu scappa, va bene? Ok? Sicuro che è una cosa che si può fare? Non è che ci distrugge? Ormai l'ho toccato. Quindi, al massimo, voi facciamo una cosa. Cercate dentro le chest. Io mi sono messo uno spawn point nel dubbio. Adesso faccio il coraggioso. T'altro trella. È un pazzo. Ma ho trovato un vaso. Non c'è nulla in queste case, Steph. Hai trovato solo tu la spada di diamante. Lo stiamo riuscendo a picchiare. Uh. Occhio. Lo state facendo? Ce l'ho fatta. Uh, grandi. Ok, quindi fa tanto danno, ma non è molto resistente. Eh, meno male, dai. Meno male. Fere, per favore, non entrare più nelle case. Io ho trovato un'altra spada di diamante, un'armatura in diamante, una chest in ferro. Quindi, Fere, evidentemente sei tu il problema. Eh, che ti devo dire? Io ho trovato carne marcia e un vaso. Raga. Che c'è? Sharpness livello 50. Non è normale questa cosa. Non è normale per niente. Non è normale neanche per sbaglio. Immagino che ci debba servire proprio per... Ecco perché è morto quel golem. Ora mi è chiaro. Dici? Eh, penso di sì. Mi sa che stavo già dando questa spada. Tiene una comunque, ne ho trovato due. No, ce ne ho anch'io. Mi sa che Fere è quella che non ha... Eh, io non ho niente perché ho trovato solo carne marcia e un vaso, quindi... Ah, questa mi tengo col protection 3. Non è andata per niente bene. Ne hai preso la spada, Fere? Sì, l'ho presa, adesso ce l'ho. Almeno siamo equipaggiati. Eh, almeno quello. Io continuerei a guardare tutte le casse perché di fatto io ho trovato roba incredibile. A parte che sto trovando un sacco di cibo, per fortuna. Eh, dai, meno male. Almeno ti sta andando bene sotto quel punto di vista. Ho di meglio. Ok. Ma qua in effetti non ho mai provato a rompere il grano. Cosa chiederà? Alberi. Alberi? Alberi. Hai i sapling? Sì. Sì, 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 sì. E gli scalini invece? E le porte invece? Eh, ma non puoi rompere tutto, Steph. Eh sì che rompo tutto, sono curioso. Eh sì, perché tanto il villaggio è grande. Ma gli distruggiamo tutto. Ma tanto non sentono niente i villager, lascia stare. Concrete power, ok. Le torce. Cosa ti danno? I shulker box, va bene. Wow. Ma guarda che sono molto utili però, eh. Sì, infatti io me le porterai via quelle, sinceramente. Allora, no, vabbè, ma qua è bellissimo. Ho trovato delle carote d'oro. Come le carote d'oro? Sì. Non ha senso nulla. C'è un'altra spada di diamante fortissima che però tanto ce l'abbiamo tutti. Uh, bello questo. Continuo a prendere la legna e poi qua deposito un po' di cose che secondo me non ce ne facciamo nulla. Che non ti servono. Perché sono veramente pieno di roba brutta. Quindi depositiamo tutto. Allora, io non so se siamo abbastanza equipaggiati a questo punto per entrare lì dentro. E' brutale, ma io non lo so. Io vedo già robe strane. Cos'è quel coso blu che sta andando lì giù, Steph? Coso blu che sta andando... Lo vedi? È una specie di villager blu. Ma ci sono due mostri diversi. Ce n'è uno anche qua, Fere. Dove? Questo è tipo uno spirito. C'è uno spirito? Come c'è uno spirito? Oh. L'hai distrutto però. Vuol dire che siamo forti. Ho polverizzato. Vai a picchiare anche l'altro. Guarda che è la mia stessa spada, Fere. Quindi vai tu. No, la tua è più forte, vai. Non è vero. Sei poco coraggiosa. Dai, adesso lo so che... Vado io, va bene. Vado io. Sempre un villager. Però è blu. Si sta duplicando. Che ha fatto, raga? Io non lo posso colpire. Neanche io. Forse devi trovare quello giusto. E lui quello giusto? No. Ora, no. Non lo posso colpire. Ma lo rifà costantemente. Come facciamo? Aiuto. Ascolta, lasciamolo stare. Lasciamolo stare. Però in effetti è pacifico. Cioè, non ci sta attaccando, scusate. Non ci sta facendo niente. Il tizio è un po' strano. Però è pacifico. Eh, infatti. Quindi lasciamolo in pace. Vivrà per sempre in questo villaggio. E noi va bene così. Lo vediamo anche qua. Così ce n'è solo una alla fine. E gli altri che si porta dietro. Esatto. Quelli vivono nella casetta. Allora, facciamo così. Ci fermiamo. Finiamo di esplorare tutte le case. E nel prossimo video proviamo ad entrare lì dentro. Io vorrei almeno essere full armatura. Perché al momento ho due pezzi di cinque. Però se ne la troviamo, troverò il coraggio da qualche parte. Le carote d'oro mi danno speranza. Eh, almeno quelle. Io c'ho quelle normali. Ah, comunque ho trovato un frammento di anima. Dallo spirito. Ma inquietante, Steph. Sì, non so. Però magari può essere utile per cartare qualcosa. Esatto. Dovremo controllare. In ogni caso, ci fermiamo così per questo video. Questo mondo è veramente maledetto, ma in tutti i sensi. Ci sono mostri strani e super forti. È uscito fuori. Alla fine ce l'ha fatta. Lascialo stare. Non lo guardare. Non va a partecipare all'altro. Dicevo, ci sono persone strane tipo quelle. Capitano cose veramente strane. È imprevedibile capire cosa si trova a livello di loot. Quando si spacca qualsiasi cosa. Quindi è veramente difficile adattarsi. E abbiamo un portale gigantesco dove entrare. Che non lo so. A me non ispira. Io non ci vorrei neanche cantare. Però ci penseranno i noi del futuro. Quindi non ci riguarda adesso. Noi ci fermiamo così. Qua sotto ecco poi altri video. Iscrivetevi al canale Cappellina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao. 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 Ciao.